Sono per le idee che ho e che cerco di farle condividere anche agli altri se è possibile o di condividere io le idee degli altri se più confacenti e più efficaci rispetto ai problemi che si devono risolvere. Quindi non sono contro nessuno, sono per il mantenimento delle mie idee. Oggi vedremo come il Presidente Emiliano ci informerà di quella che è la novità ultima che è stata quella che vede il Ministro da un punto di vista della correttezza istituzionale precisa della procedura che si sta mettendo in atto. Il Ministro ha fatto dei nomi e vedremo adesso cosa ci dirà il Presidente e qual è l'informazione che ci darà. Dopodiché speriamo, spero, mi auguro che si possa trovare una sintesi unitaria. Ma voi sindaci avete un nome alternativo? Noi allora già da qualche anno la comunità del Parco fece una terna, indicò una terna al Ministro. Credo che sia noto questo. Quindi non lo so se dobbiamo parlare di nomi alternativi all'attuale indicazione del Ministro o meno. Noi avevamo indicato in tempi non sospetti e tempestivamente, ritengo io, avevamo indicato una terna. Al di là del...